Salve a tutti, in collegamento dal 38esimo piano di Palazzo Lombardia, a Belvedere con l'assessore Stefano Bolognini, assessore ai giovani e alla comunicazione della città metropolitana di Milano. Buongiorno, assessore. Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi siamo con l'assessore per illustrare un nuovo progetto, un progetto innovativo, tutto mirato ai giovani, una nuova piattaforma internet dedicata appunto alle nuove generazioni. Sì, da oggi finalmente è disponibile ed è aperto un portale completamente dedicato ai giovani che è www.giovani.regione.lombardia.it dove abbiamo raggruppato tutte le opportunità e servizi, bandi e le occasioni per i nostri giovani che spesso hanno difficoltà a orientarsi, a trovare quella che può essere un'opportunità e invece qua stiamo implementando una serie di occasioni e iniziative importanti per loro che potranno trovarle in modo molto molto semplice. Ecco, come da questo bellissimo terrazzo vediamo a 360 gradi un po' tutta la Lombardia, allo stesso modo questo sito vuole cercare di coinvolgere veramente a tutto campo i giovani in tutti gli ambiti che possono essere l'arte, la cultura, lo sport, l'innovazione, la scuola, veramente una fonte di notizie e un modello anche per interagire con loro. Assolutamente sì, pensiamo alla scuola, la dote scuola, pensiamo alle opportunità del volontariato, la leva civica, il servizio civile, pensiamo ai bandi, pensiamo alla Carpe Musei che sta raccogliendo grandissimo successo, che è una Carpe che permette di entrare gratuitamente o a prezzi scontati in tutti i musei della Lombardia. Ecco, sono alcuni degli esempi di quello che si trova su questo sito. Abbiamo cercato davvero di raggruppare in un unico spazio tantissime occasioni, tantissime iniziative. Molto spesso ai giovani mancano iniziativa, qualche volta è perché non sono a conoscenza di opportunità. Con un grande lavoro che ha fatto la regione della Lombardia abbiamo messo in unico contenitore tutte le occasioni, tutte le opportunità, ma sappiamo che ce ne sono anche tante altre che permettono e permetteranno ai giovani di trovare la loro strada, un'occasione, un'opportunità, un servizio. Pensiamo anche agli sconti sugli abbonamenti per il trasporto pubblico, pensiamo ai bandi, tutti i bandi della nostra direzione verranno pubblicati, ce ne sono tanti nel settore della cultura. Ci sono tante iniziative nel settore delle start-up, degli artigiani, quindi anche occasioni di lavoro per i giovani. Capita spesso che i giovani abbiano un'idea e magari non trovino la strada per realizzarla. Io penso che su questo portale, ma anche sul canale Instagram Generazione Lombardia, che da qualche mese è attivo e sta raccogliendo grandi successi, i giovani possono trovare tante occasioni per essere ancora più agonisti e per crescere ancora di più. E poi la notizia è rivolta anche ai giovani, ma anche ai genitori o ai nonni dei giovani, perché come diceva lei, tante volte magari sono proprio le famiglie che devono mettere le mani in tasca per sostenere i loro figli e i loro nipoti e lì questi genitori o questi nonni possono dare dei consigli, perché magari hanno più tempo, hanno più voglia di andare a verificare cose che magari si danno per scontato ai propri figli e nipoti. Sì, si trova tutto quello che riguarda i giovani, ci sono due sezioni, io e noi, quindi i giovani potranno trovare quello che riguarda io, la persona o noi, quindi tutte le attività che si possono fare in forma associata, pensiamo allo sport, ai bandi in cui si presenta con un'associazione o magari alle imprese. Chiaramente anche gli anziani, i nonni, i genitori, anche i più piccoli, ma anche la comunità, anche gli amministratori qua possono trovare tutto quello che riguarda i giovani nel loro complesso. Chiaramente viene dato ampio spazio anche alla legge, che è un po' come dire la cornice entro il quale si svolge tutto il corso che facciamo, quindi la prima legge regionale sui giovani. C'è il manifesto di Gioiazione Lombardia, che è un manifesto che in qualche modo delinea l'identità, i valori che i giovani hanno voluto condividere con i giovani lombardia rispetto alla loro attività, alla loro vita, a quello che fanno. E poi ci sono tutte queste iniziative. E poi ci sono tutti i bandi che direttamente o indirettamente riguardano le attività giovanili. Spesso si sente dire non lo sapevamo, non lo sappiamo, l'avessimo saputo. Ecco, guardate qui e troverete sicuramente tutto quello che vi può aiutare nel vostro percorso lavorativo, di crescita, del tempo libero, come persona. C'è anche una parte legata alla prevenzione, quindi alla salute, a tanti temi, pensiamo alla prevenzione e all'educazione alimentare, ai temi della sessualità, che sono molto importanti per i giovani. Ecco, qui ci sono degli approfondimenti e poi dei link che mandano e rimandano ad altre pagine regionali, dove poi chiaramente si possono trovare anche degli approfondimenti. Bene, ringraziamo dunque l'assessore Stefano Bolognini e ricordiamo anche che questa iniziativa può essere considerata un po' una ciliegina sulla torta di un progetto molto più ampio che riguarda appunto la comunicazione a cui fa riferimento l'assessore Bolognini, perché sono notizie di queste ultime settimane i siti, le pagine Facebook, Instagram, TikTok, tutto quello che Regione Lombardia sta facendo a livello di social media e di internet sta avendo un grande successo come risultato del fatto che probabilmente la gente apprezza questo tipo di lavoro. Grazie Assessore, arrivederci a un prossimo appuntamento. Grazie Pier, mi raccomando www.giovani.regione.lombardia.it, il primo portale dedicato completamente a tutti i giovani, ci aspettiamo grandi numeri e grandi risposte. Grazie.